A Scicli ci sono difficoltà legate alla gestione della raccolta e dello smaltimento di rifiuti, che alle porte dell'estate rischia di diventare una vera e propria emergenza. A un anno dalla disastrosa estate 2018 il territorio è ancora sporco, la raccolta differenziata stenta a decollare, i cittadini e i turisti sono esasperati. A farlo notare il circolo legambiente Chiafura, con una critica all'amministrazione comunale, colpevole di aver ignorato le proposte avanzate dall'associazione ambientalista. Ci chiediamo se stiamo per affrontare una nuova emergenza rifiuti, se sia l'ultima o la penultima. Siamo abbastanza preoccupati, noi come circolo legambiente Scicli e anche tutta la cittadinanza, perché è chiaro sotto gli occhi di tutti che il territorio continua ad essere sporco, la raccolta differenziata, ce lo dicono i dati dell'SRR, si attesta tutti i mesi sul 21%, mentre i comuni della provincia di Ragusa sono diventati dei comuni virtuosi, sono partiti dal nulla come noi e sono alcuni arrivati anche al 71% come Ragusa. È chiaro che anche la qualità della raccolta differenziata è importante, quindi noi auspichiamo che i cittadini imparino a fare la raccolta differenziata, è importante che sia di qualità per non caricare di costi noi stessi e per non andare a conferire in discarica una raccolta di rifiuto che non sia idonea per essere conferita all'impianto di compostaggio per quanto riguarda l'umido. Per quanto riguarda le azioni da compiere, noi auspichiamo, ribadiamo che l'amministrazione dovrebbe, secondo il nostro avviso, sanzionare i cittadini che non svolgono la raccolta differenziata in modo corretto, sanzionare anche l'impresa laddove non svolge il loro dovere, scovare anche gli evasori e gli elusori della tassa. Ma anche gli stabilimenti balneari devono seguire la delibera della regione siciliana per quanto concerne l'usegetta di plastica. Noi auspichiamo che venga attuata la circolare della regione sicilia che prevede che vengano fatte le sanzioni e i controlli laddove il terreno demaniale non venga ripulito idoneamente ed anche che vengano fatti i controlli appunto che venga applicata la delibera della regione sicilia per quanto riguarda l'uso delle plastiche usegetta negli stabilimenti balneari. Si aspetta però ancora che venga convocato l'osservatorio rifiuti zero. Il comune di Scicli ha reso pubblico di aver attivato l'osservatorio sui rifiuti, l'osservatorio rifiuti zero, ma aspettiamo che venga convocata la prima riunione affinché i componenti possano dare il contributo, il proprio contributo, per risolvere, contribuire a risolvere il problema dei rifiuti a Scicli. 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 Scicli.